Sono Daniele Valabrega e per il terzo anno di fila ho l'onore di ritrovarmi qui nel Palazzo Barberini, la sala da Cortona, a fare musica da camera, la mia passione, insieme ad altri ragazzi e grandissimi musicisti. E devo ringraziare Bobby McDuffie che è l'anima di questo festival e quest'anno ha voluto dedicare questo festival a Roma. Le prove saranno prove aperte, con 10 euro voi potrete visitare il fantastico Palazzo Barberini ed ascoltare una giornata di prove, sentendo come dei giovani ragazzi volenterosi e talentuosi si confrontano con dei brani che spaziano da l'anima romana, italiana, più che romana, di Tchaikovsky che in Souvenir de Florin si appassiona dell'Italia e compone questo sestetto meraviglioso, ma anche l'anima invece americana di Appalachian Spring Suite di Aaron Copland, compositore meraviglioso nella versione per 13 strumenti di musica da camera, e poi invece l'anima alla quale questo festival è maggiormente dedicato, che è quella del talento, quella della giovinezza, della felicità, con Mendelssohn, l'ottetto composto quando aveva soltanto 16 anni, se non sbaglio, e che è veramente un brano di felicità pura, e quindi veramente con il cuore in mano vi consiglio di farvi questa bellissima giornata Palazzo Barberini e musica classica.